Forse siamo in uno dei video più strani sul mio canale Un giorno in live vi ho parlato che ho acquistato un miele che costa 198 euro Quindi diciamo 200 euro, in realtà no, fa più figo 198 euro E allora mi avete chiesto di farci un video, mi raccomando lasciate like Perché penso che questo video non è che lo vedranno tutte queste persone Diciamo che è un video un po' particolare, ma va bene così Allora, lasciamo subito un bel pollicione in su Come vedete Simba deve sempre dare il meglio di sé quando io registro Ovviamente ho un cucchiaino molto professionale per un miele, insomma, di un certo costo Vi ricordo, prima di iniziare, che questo miele e tutte le altre cose che acquisto su Amazon Le acquisto con il mio referral link, sicuramente Michele ve lo sta facendo vedere Vi ricordo di impostarvi tra i preferiti il mio link Perché ogni volta che acquisterete un prodotto su Amazon, che deciderete voi Mi verrà percepito un 3% di commissioni, che butta via In più, se entrate nel mio server Discord, c'è per l'appunto Una pagina, un posto dove potete postare tutti i prodotti che acquistate con il mio referral link E potrete vincere un premio a fine mese Questo qui è un miele di Manuka Va bene? Questo qua non costa 198 euro, ma penso che costa sui 140 euro Che già ho assaggiato Perché vi faccio vedere che questo tipo di prodotto già l'ho mangiato Ma non ho mai mangiato questo E' quello che costa 198 euro Vedete? Con 1282, com'è? MGO E allora, è una cosa un po' particolare Perché diciamo alcune caratteristiche Allora, l'UMF è il modo in cui classifichiamo il nostro miele di Manuka Il livello di MG è elencato per fornire un paragone di UMF 26+, avrà un livello MGO di almeno di 1282 Cioè, regà, roba astronomica per quanto mi riguarda Perché veramente non si capisce niente La fonte, questo miele, viene prodotto da api che si alimentano dal nettere della pianta di Manuka nativa Un albero grassoccio che è indigeno e abbondante in tutta la Nuova Zelanda I piccoli fiori bianchi dell'albero Manuka fioriscono durante la primavera e l'estate in Nuova Zelanda E questo è il periodo dell'anno in cui le api raccolgono il nettere e producono il miele Il gusto Il miele di Manuka è un miele complesso con un sapore erbaceo Che presenta sfumature di caramello Con un finale fresco e pulito e un gusto moderatamente amaro Questo miele ha una consistenza molto liscia e piacevole Di conseguenza densa, quasi gommoso e simile a un fondente Il miele può variare dall'essere una crema scura al colore marrone scuro o qualsiasi cosa nel mezzo Cioè praticamente vai a culo Cioè nel senso, in base a quello che trovi, trovi Questo qui è il miele più costoso ed è la forza della natura Io immagino che ci siano degli antiossidanti ottimi qui dentro Che faccia tanto bene al corpo Perché ci deve stare un motivo perché costa così tanto Oltre a tutte queste cose qua Infatti dicono che il miele di Manuka è un superfood versatile e potente Flessibile con tanti utilizzi La potente attività in ciascun baratto del nostro miele di Manuka lo rende perfetto Nei bevande e nei frullati Ok Piano perché non voglio Ah è molto denso effettivamente Guardate che bel colore che ha Vedete? Calcolate che costa 198 euro Madonna com'è denso Vabbè Ci sta Vedi? Vedi? Lo vedete? Quindi diciamo che non so Penso siamo capiti di bene a livello dei colore Perché ho detto va un po' a fortuna E lo vado ad assaggiare per voi Eccolo qua Voi dite ma ne vale la pena raga? Non lo so se ne vale la pena Madonna mia Vado Lo assaggio Vabbè Molto Molto buono Come vedete Non ne butto neanche una goccia Le cavate raccoglie tutto quello che è il miele De sto barattolino È molto molto buono Amore vuoi assaggiare? E Però Parliamoci chiaro È comunque È buonissimo È buonissimo Ma è sempre comunque un miele Ripeto se c'è qualcuno qua Che ne capisce tanto Molto buono Ci fate sapere Se è un miele Che conviene comprare Io immagino di sì Per carità di Dio Perché poi vi faccio vedere anche quest'altro qua È simile Vedete? La consistenza è comunque simile Ve lo farei vedere anche di qua Ma non so se poi mi sbrotolo tutto È leggermente più chiaro questo qui Vedete? Leggermente più chiaro Però Il sapore è diverso Questo sa un po' più di fiore Un po' più morbido Questo è effettivamente più scuro Un pochino più amaro Un po' più complesso Ma pure questo Questo è 829 Questo qua Che è il terzo ultimo Invece questo qua Come potenza Come potete vedere È un 1282 Regà È un video dove praticamente Io vi so dire queste cose qua Era più una curiosità Che mi avevate chiesto Se avete delle specifiche Diverse da quelle che vi ho dato io Per favore raccontatecele Qui sotto In descrizione Nei commenti Perché a noi fa piacere Tra l'altro Regà fa un caldo ancora Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Pollicione in su Ah tra l'altro Sono 250 grammi Per appunto Costa Tot E tra l'altro Adesso mi ha detto Veronica che Mi è arrivato il miele Che mi ha mandato Uno di voi Che mi segue In live Che ha un'azienda Poi ve lo farò vedere Su Instagram Per farvi capire Se gli date a lui 200 euro Penso che vi ricopre Gli miele Dicono che nelle specifiche Come avete sentito Se ci avete mal di cola Vi prendete un cucchieno di miele Dopo un po' Vi fa affetto Invece questo qua Dovrebbe agire subito Quindi Probabilmente Come altri mieli Ha anche delle proprietà Antinfiammatorie Ma vabbè Ma quello Era Se sapeva Perché il miele È già di suo È antinfiammatorio Perché quando uno C'ha mal di cola Ti fa il latte Bello bollente Con un bel cucchiaino di miele Ti rigenera Ti fa bene Quindi oltre tutte quelle là Però dicono che ha Un'immediatezza Maggiore Vedremo Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Perché adesso ne vado a registrare Un altro molto particolare Che uscirà domani Sul canale Regà Non lo so Ditemi voi Io rimango un po' a voi Perché è inutile Che vi porto via Altro tempo Non c'ho altro Da farvi vedere Guardate gli altri due video Lasciate like Commentate Condividete Al prossimo appuntamento A vostro video Con tanto Di Br spatiale Al prossimo appuntamento аствora Grazie a tutti.